buonasera a tutti anche noi abbiamo una busta da tiger pagata 3 euro l'abbiamo presa al tiger a quarto nel centro commerciale quarto nuovo apri franci io avrò di qua pesca subito dei bicchieri con gli occhiali cos'è? aspetta un bicchierino è dello scotch penso sia dello scotch aspetta faccio vedere scotch nero bicchieri di plastica duri bianchi semplici piatti con acqua metallizzato intorno al metallizzato e il post it cosa c'è da fare finita finita ciao a tutti ciao a tutti al prossimo video ciao